E anche oggi su Julian Assange si decide domani. Diciamo che quella della corte inglese questa volta è stata una decisione abbastanza favorevole al fondatore di Wikileaks, però il fatto che si rinvia ancora la decisione, certo significa che lui non va negli Stati Uniti per ora, non viene consegnato a una condanna che sostanzialmente sarebbe a vita, però è un ulteriore passo nella direzione della muina, si continua a prendere tempo. Il fatto che una decisione sia così difficile la dice lunga sullo stato del nostro rapporto con la libertà di pensiero e di espressione. Anche in queste ore continuiamo a giudicare gli altri, continuiamo a giudicare quello che c'è intorno e per carità è anche normale che si esprimano dei giudizi su altre nazioni, su altri regimi politici che magari ci sembrano troppo oppressivi, addirittura dittatoriali. Per carità è tutto legittimo, però io credo che dovremmo iniziare seriamente ad aprire una riflessione sulla libertà in casa nostra, sulla libertà di pensiero, sulla libertà di parola, sulla libertà di esplorare tutte le posizioni, anche le più critiche, anche volendo le più apparentemente impresentabili. Se c'è qualcosa che ha reso grande l'Europa è proprio questo, la libertà di pensiero e la libertà di espressione. Julian Assange, che piaccia o non piaccia, è un prodotto di questa libertà di pensiero e di espressione e quando viene cancellata poi se ne sente la mancanza. Servirebbero più figure come quella di Julian Assange in questo mondo e forse non ce ne sarebbe il bisogno se il potere fosse un po' più trasparente, ma non è questo il caso. In Occidente anzi il potere è sempre più opaco, sempre meno disponibile al confronto e al chiarimento. Chissà, forse è sempre stato così, però magari era così anche in passato, ma in passato c'era una forte tendenza a opporsi, a contestare, a criticarlo. Adesso è un po' venuta meno e secondo me prima di guardare intorno a noi dovremmo guardarci dentro, guardare nelle nostre viscere e renderci conto di quello che sta succedendo, dei pezzetti di libertà che stiamo perdendo.